Ben trovati all'appuntamento con le provisioni del tempo. Cominciamo con la situazione generale in Europa. Il vortice artico soprannominato Attila piano piano se ne sta andando dalla penisola italiana con ancora qualche residuo di pioggia nelle zone meridionali. Intanto un'altra area di bassa pressione si sta lentamente avvicinando verso la Francia. Poi bisogni del tempo per la giornata del 24 ottobre 2014 partendo dal sud. Nuvolosità irregolare con pioggia su Gargano, Appennino Dauno, Murge e Vat. Mentre nel Salento nuvolosità irregolare con temporali alternata a squarci di sereno. Ancora pioggia su Calabria e Sicilia mentre su Sardegna e centro e nord Italia. Condizioni generali di bel tempo ma con temperature che rimangono ancora gelide. Si va dai 9 gradi di Firenze ai 26 di Cagliari con venti ancora forti e mari ancora poco mossi. Mosso l'Adriatico.